Una centrale plastic free, quella del 118 Aretino, grazie alle 60 borracce donate dalla misericordia, da oggi gli operatori la porteranno con sé durante il servizio. L'effetto Greta Thunberg arriva fino alla centrale del 118? Noi siamo utenti stamani di fare questa plastic free della centrale 118 perché è corretto e giusto mandare messaggi positivi. Si inizia il 2020 nei migliori modi, mettiamo la nostra piccola goccia nel mare per migliorare lo stato dei nostri mari, per ridurre la plastica e per dare un mondo migliore ai nostri figli. Queste borracce sono anche tra l'altro per il vostro anniversario? Sono per l'anniversario della Federazione Toscana delle Misericordie che comprende 350 misericordie in Toscana, ad Arezzo e in provincia abbiamo 36 misericordie. Io in quanto consigliere regionale delle misericordie abbiamo collaborato e donato. Noi l'abbiamo fatto per eliminare tutte le plastiche che oggi ci sono, anche come misericordia di Arezzo e poi scritto anche nel nostro giornalino che è quest'anno e cose per eliminare la plastica. Lavoriamo per questo. Spero che tutti, perché si capisce quello che viene, è quello che si vede dai medi e quindi la plastica negli oceani, nei mondi e dappertutto, quindi questa plastica certamente danneggia anche la salute.